Ciao Diver! Com'è andata la tua ultima immersione? Di la verità ti stai appassionando sempre di più al mondo sommerso, vero? E allora lasciati travolgere dall'emozione di immergerti un pochino più in profondità e iscriviti subito a un corso Advanced Open Water. Sposta il tuo limite di profondità a meno 30 metri e inizia a scoprire quante altre passioni puoi iniziare a coltivare solt'acqua. Il corso è strutturato in 5 immersioni, ognuna con un tema che sceglierai tu in base ai tuoi gusti. Prova l'emozionante immersione notturna, un'immersione profonda, un'immersione naturalistica oppure porta un ricordo in superficie grazie all'immersione con macchina fotografica. questi sono soltanto degli esempi, insomma sei soltanto all'inizio ma è già tutto alla tua portata. Chiamami o contattami per maggiori informazioni. Grazie a tutti!